Volevo parlare un poco del fonendoscopio questo qui è quello che usano i dottori uno di quei modelli la perché poi ci sono altri modelli per esempio questo qui ha un unico tubo che poi si biforca e fa le varie cose cioè le zamme e le orecchie poi ci sono altri modelli invece che qui partono due tubi che solitamente sono uniti e poi ognuno di loro va all'orecchio questo è il modello che unisce invece con l'altro il modello un po' più separato allora questo qua è l'evoluzione del fonendoscopio e dell'ostetoscopio che praticamente dovrebbe essere una specie di imbuto non so se vi posso far vedere un attimo così guardate che tu metti da una parte metti sopra tipo per esempio una superficie che devi ascoltare no e poi metti l'orecchio da quest'altra parte qua allora questo fonendoscopio o l'ostetoscopio questo è comunque l'evoluzione perché questo era troppo rigido uno doveva stare sempre fermo là poi fu aggiunto un tubo e alla fine si è passato a questo comunque volevo dire che questo fonendoscopio qua uno pensa a che me ne serve mica devo mettere a fare il medico giochiamo a fare il dottore no e allora c'è a che me ne devo fare sino questo qua si può usare per vari motivi cioè per varie cose questo è praticamente soltanto aria cioè non c'è nulla di si potrebbe fare pure a casa volendo comunque questo qua serve è buono per aumentare le tue capacità acustiche con questo ci puoi ascoltare non soltanto dentro alle superfici tipo il cuore la respirazione altre cose del genere è buono per per ascoltare molte vi riuscirà a percepire certi suoni che soltanto uno non riesce a percepire perché se uno può avvicinare l'orecchio che tipo a signorina cosa cioè forse sarebbe meglio per alcune cose comunque volevo farvi capire questo è buono se volete aumentare le vostre capacità auditive quello che volevo farvi pure capire un'altra cosa no che se riuscite a fare che ne so una cassetta vi costruite una cassettina di legno con attaccate con la pistola a cera una cassettina tipo quella lì a 6 lati quella come un cubo ai l'altro ci mettete queste cose del fonendoscopio invece ci fate tre buchi a due di loro ci mettete queste cose del fonendoscopio e al terzo buco ci mettete un microfono che poi come si chiama lo sigillate tutto sempre con la con la pistola a colla fatto tutto questo no pigliate il microfono lo attaccate a un computer così vi potete registrare i suoni più ci può essere registrati che ne so il il battito cardiaco c'è un paziente malato che non può andare dal medico e il medico vuole sentire questo battito cardiaco poi invece lo registrate e ce lo portate al medico questa è la cosa intelligente che si può fare con il fonendoscopio cioè può essere utile che poi ve lo registrare su che so su un cellulare come se registrare ad esempio adesso la mia voce e io lo portate al medico se lui capisce subito potreste pure impararvi come si capiscono i battiti cardiaca cioè imparatevi pure a usare questa cosa qua per migliorare proprio le vostre capacità che se è una cosa che consigliere a tutti quanti come consigliere a tutti quanti di comprasse un binocolo cioè se volete fare i bravi cioè se volete veramente fare qualcosa andare un passo più avanti del normale imparatevi a usare tutto e questa è una delle cose che vi consiglio di imparare a usare non so se buonanotte sanatoria voto omar